Buon tetto, le sospensioni lascia restare, non le vuole. Oh, le vuole? No, non le vuole, adesso porta solo le pizze. Le due? Credi? Oh, due altre? Le pizze, quante ne hai, quante ne porti? che sono spensioni, non le vuole. Vedi, c'è proprio un 3.800, farò normale. A farlo normale? Non a 3.800, sì. Farò normale, normale. Grazie a tutti.